L'ecrono, paradossalmente, è il giorno più importante della carriera. La gara può succedere di tutto, però le prove è proprio quel trampolino di lancio che ti fanno capire se durante l'anno le cose sono state fatte bene oppure no. Perché lì la gente ci fa un'idea di che cosa è il team Nibbio, come sono i ragazzi del team Nibbio. Tu hai lì in un giro secco e in quel giro secco devi dimostrare che gli allenamenti sono andati bene, che i ragazzi sono allenati e hanno fatto le cose giuste, che la macchina funziona e quindi sicuramente il giorno delle prove è il giorno un po' più difficile a livello emotivo. Ciao!